Ciao, sono Marco del negozio Passport. Oggi vorrei presentarti una grande novità in casa Mizuno e per definire questa scarpa vorrei utilizzare tre aggettivi che sono accattivante, performante e innovativa. Hai voglia di andare a vedere con me di cosa stiamo parlando? Prima però ti invito ad iscriverti al nostro canale YouTube e ad attivare la campanellina, così rimani sempre aggiornato sulle novità e sui video che proponiamo. Seguici anche sui canali social Instagram e Facebook. Ma adesso dai che andiamo! Eccoci ragazzi, ecco a voi Mizuno Wave Sky 5. Qui nelle prime colorazioni che ci sono arrivate in negozio, a breve ne arriveranno anche altre che saranno subito caricate anche nel sito. Ma andiamo nel concreto. Allora, parliamo di una calciatura A3, massimo ammortizzamento, appoggio neutro, una scarpa che ha un drop di 8 mm e che ha un peso di 300 g nella versione maschile e di 260 g invece, quindi molto leggera, nella versione femminile. Ho esordito utilizzando tre aggettivi. Ebbene, andiamo a concretizzarli, a metterli in concreto. Ho detto una scarpa accattivante. Ebbene sì, a mio avviso questa è una scarpa molto bella, molto accattivante appunto, con questa nuova livrea, con questa nuova costruzione della tomaia che va da sé anche dei contenuti altamente tecnologici. Infatti viene utilizzato un mesh a tramatura differenziata con anche una parte di elasticità nella tomaia per consentire il massimo del comfort e un tallone costruito come sempre da Mizzuno con un'ottima conchiglia protettiva ed un'imbottitura importante che serve a contenere perfettamente il tallone e a preservare l'appoggio del tendine d'Achille per evitare fastidiosi dolori e prevenire infortuni nelle lunghe distanze. La lacciatura è composta da sei fori passalaccio che consentono di avere una chiusura molto precisa sul collo del piede senza però come sempre mai sacrificare il comfort. Ho voluto utilizzare anche il termine innovativo per parlare di Mizzuno Wave Sky 5. Ebbene i tecnici Mizzuno si sono voluti concentrare principalmente con l'innovazione su quello che è il comparto dell'intersuola. Qui infatti viene utilizzata la nuova mescola che si chiama Mizzuno Energy Core, una mescola che offre grande protezione, grande ammortizzamento però in abbinamento ad un'ottima reattività, ad un'ottima risposta elastica che si percepisce sia in fase di primo impatto tallonare ma soprattutto in fase di spinta sulla parte appunto dell'avampiede. Il sistema Wave in questo caso non è più realizzato utilizzando la piastra in materiale plastico bensì è realizzato utilizzando una doppia mescola di gomma di diversa densità. Questo per far sì che la calzatura venga in parte ridotta un po' di peso ma soprattutto per far sì che la rullata quindi la transizione tacco punta sia sempre più naturale ma soprattutto sempre più fluida. Un cenno anche al battistrada in questo caso i tecnici Mizzuno utilizzano una mescola che si chiama X10 ed è appunto una mescola di gomma che ha un'ottima durata contro l'abrasione quindi una calzatura con cui ci si possono fare veramente tanti chilometri. Voglio farvi notare solo una piccola particolarità cioè le nuove linee di flessione che appunto rendono la calzatura molto flessibile e che quindi consentono di avere una fase di spinta molto più progressiva molto più dinamica e probabilmente anche molto più reattiva anzi non probabilmente ma sicuramente molto più reattiva. Ha usato il termine anche performante ebbene per quanto riguarda Mizzuno Wave Sky 5 questo termine lo andrei a utilizzare parlando di podisti di peso medio e medio alto infatti personalmente la definisco una scarpa veloce per atleti pesanti. Questo perché? Perché le caratteristiche di costruzione di questa calzatura fanno sì appunto per gli atleti un po' più pesanti di percepire di avere il massimo della protezione e l'ammortizzamento ma allo stesso tempo è una calzatura che ti fa sentire la facilità di transizione tacco punta e soprattutto senti perfettamente l'effetto rebound l'effetto rimbalzo che sull'avampiede si fa sentire in maniera ancora più più forte più significativa. Questo non significa che gli atleti un po' più leggeri non possono utilizzarla ovviamente gli atleti più leggeri percepiranno una calzatura sicuramente un po' più pesante apprezzeranno sicuramente quello che è il fattore dell'ammortizzamento della protezione e per quanto riguarda sostenere i ritmi più veloci avranno sicuramente anzi certamente bisogno di una calzatura un po' diversa ma va da sé che questa scarpa non nasce per essere una scarpa super veloce bensì per essere una calzatura performante sì ma allo stesso tempo molto protettiva e molto ammortizzata. Per chi volesse utilizzare Wave Sky 5 per andare a fare delle passeggiate, delle lunghe camminate direi che è una scarpa che mi sento di consigliare primo perché è molto protettiva secondo perché è molto confortevole per quanto riguarda l'alloggiamento del piede e terzo perché è una scarpa che si adatta perfettamente sia all'asfalto che la strada bianca. È una scarpa con cui ci si possono fare tranquillamente tanti chilometri con cui ci si può appunto divertire ed avere il giusto compromesso di ammortizzamento relativa leggerezza e ottima performance. Spero ragazzi e ragazze che questo video vi sia tornato utile e vi sia piaciuto anzi aspetto un vostro like qui sotto. Come sempre vi invito a venirci a trovare presso i nostri negozi siamo a Busche o a Signoressa. Se abitate lontano perché no anche online sul nostro sito www.passport.it. Alla prossima ciao!